per chi colleziona opere d'arte è ovviamente importante interrogarsi su quali siano le tendenze presenti e future del mercato per ben investire e investire oculatamente i propri denari è importante quindi avere una bussola per investire in arte una bussola che ci viene fornita da considerazioni autonome da buoni consigli e a volte anche da riflessioni che vengono condivise da collezionisti che per lungo tempo hanno sul campo degli acquisti della compravendita delle opere d'arte accumulato un'esperienza preziosa che viene messa a volte a disposizione degli altri è il caso di Tommaso Fontana un importante manager farmaceutico che ha cristallizzato in questo volume il vissuto dell'arte De Luca Editori 40 anni di collezione d'arte 40 anni nel 2006 un volume edito nel 2006 ecco trovo particolarmente interessanti e condivisibili alcune sue riflessioni che cito testualmente scriveva nel 2006 che si sono creati nuovi mercati come quello russo turco greco cinese coreano indiano che hanno aumentato moltissimo la richiesta di opere d'arte e quindi questo processo si è ulteriormente sviluppato diffuso e approfondito ovviamente nel corso degli ultimi 15 anni è importante porre attenzione all'internazionalità delle opere d'arte questo è un ragionamento assolutamente condivisibile scrive Tommaso Fontana ponendo attenzione alle globalizzazioni di ogni tipo di mercato l'internazionalità dell'opera d'arte sarà nel futuro sempre più importante il collezionista dovrà rivolgere sempre di più la sua attenzione verso quegli artisti e quei movimenti di valenza internazionale trascurando gli artisti che pur avendo un mercato nazionale non sono mai riusciti a impossessarsi di un mercato globale nello stesso tempo le gallerie e i mercanti d'arte se si saranno impossessati di nuovi mercati emergenti potranno superare eventuali crisi con maggiore tranquillità questo riferito all'arte moderna e contemporanea e poi Fontana ci introduce un ulteriore spunto di riflessione parlando dell'arte antica altrettanto condivisibile dice ritengo doveroso fare una mia brevissima riflessione sulle quotazioni altissime che raggiungono gli artisti moderni e contemporanei rispetto alle quotazioni dei celebrati e storicizzati artisti di arte antica infatti è difficile giustificare che opere importanti e sicuramente autentiche dei grandi maestri dell'arte antica quando molto raramente appaiono sul mercato raggiungono quotazioni notevolmente inferiori non solo alle opere di artisti come Monet, Picasso o Orole e altri ma addirittura alle opere di tanti artisti contemporanei e quindi non ancora storicizzati non ancora cristallizzati in quotazioni attendibili e diffuse nel tempo. L'offerta sul mercato e la relativa richiesta di artisti di arte moderna e contemporanea essendo numericamente maggiore di quella dei maestri dell'arte antica diventa sempre un fenomeno speculativo, un vero e proprio business raggiungendo per questi artisti quotazioni altissime di cui sarebbe più opportuno diffidare. A medio e brevo termine questa forbice sarà sempre più in favore dell'arte contemporanea scriveva nel 2006 Fontana ma quello che succederà in tempi futuri è difficile prevederlo forse i nostri posteri si interrogeranno sui comportamenti irrazionali che il mercato dell'arte contemporanea ha avuto in quest'ultimi 50 anni ed è una riflessione non solo condivisibile ma estremamente attuale 15 anni dopo oggi nel 2021 quando l'arte antica ha prezzi sul mercato veramente in un abisso profondo, quotazioni mai viste verso il basso, è veramente forse il momento di porre un occhio d'attenzione alle particolari occasioni del mercato dell'arte antica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.